A pochi passi dalla città dei Templi, in via Porta Sirena, nel comune di Capaccio Pestum, la strada carrabile, che dalla stazione ferroviaria conduce al parco archeologico, necessita di interventi di riqualificazione. Le radici degli alberi secolari hanno reso il tratto di strada pressoché impercorribile. In alcuni punti le radici hanno infatti raggiunto il centro della carreggiata, provocando gravi danni al manto stradale, il rialzamento e a tratti anche il distacco di considerevoli parti di asfalto. Una via importante e ricca di storia, se si pensa che sotto vi è l'antica strada romana in pietra, che andrebbe recuperata per dare maggiore attenzione a quell'area. L'appello dei residenti è di riqualificare quella strada, creando un viale ben curato, con panchine e illuminazione dettagliata. Un bel biglietto da visita per chi arriva nella città dei Templi, dalla stazione ferroviaria. Da Palazzo di Città, intanto, il sindaco Franco Alfieri fa sapere che su quel tratto viario ci sarà un'azione di manutenzione in sinergia con la sopraintendenza di Salerno e che per il futuro è previsto un progetto di recupero. Via Portasirina, la strada che conduce dalla stazione di Pestum proprio al parco archeologico. Là in realtà si è pensato un'azione di manutenzione, ma il discorso è un po' delicato perché sotto l'asfalto c'è proprio un'antica strada romana in pietra e quindi bisogna fare un intervento molto molto delicato. È una strada attualmente carrabile, quindi dove passano le autovetture. Non è una semplice manutenzione, non è un semplice eliminare le radici degli alberi, quindi è un intervento delicato che stiamo predisponendo insieme alla sovrintendenza del parco archeologico, ma sicuramente quello che è certo che non può restare così com'è. Grazie a tutti.